Buongiorno, ben ritrovati, sono le 7.30, siamo qui in diretta da Fano TV per la rassegna stampa, l'appuntamento con la carta stampata, il primo appuntamento della giornata con l'informazione. Naturalmente vedremo i titoli principali che riportano nelle edizioni locali il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Guarderemo anche il tempo, ma prima di tutto guardiamo anche l'almanacco del giorno. Vediamo oggi, venerdì 4 agosto, San Giovanni Maria di Vianney, il sacerdote, il sole è sorto alle ore 6 e tramonterà alle 20.29. Il tempo, possiamo tranquillamente riprendere le didascalie dei giorni scorsi perché vedrete insieme a me che c'è poco da dire, sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature stazionarie e un lieve vento di brezza e il mare è quasi calmo. Anche per domani la stessa storia, sereno, poco più nuvoloso, qualche velatura sui rilievi, nessuna precipitazione, venti di brezza e mare calmo. E anche per domenica ci sarà qualche velatura, ma sarà proprio una cosa che non sarà nemmeno avvertibile, sereno, poco nuvoloso, qualche attività cumuliforme sui rilievi nelle ore centrali della giornata. E non si escludono brevi e occasionali piovaschi, però più che altro nei settori, come vedete, montani, le temperature stazionarie e in lieve diminuzione nei valori massimi, speriamo di qualche grado che scenda la colonnina di Mercurio. Tendenza nei giorni successivi, vedete, questa qua, le condizioni, forte stabilità, permane l'anticiclone africano sul nostro quadrante e le alte temperature saranno presenti anche per la prossima settimana. Quindi questo è tempo, questo favorevole per i vacanzieri, ma sicuramente per chi lavora e chi deve affrontare una giornata impegnativa, non è che le cose vadano benissimo, però questo è. I giornali, i giornali, iniziamo dal resto del Carlino, partiamo con la pagina di apertura dell'inserto, fotonotizia centrale, disastro, foglia, foce inquinata, i dati impietosi di Goletta Verde riportano alla realtà, insomma, e quindi fiume da bollino rosso. Poi in testa di pagina San Francesco strappa, via San Francesco, il comune strappa il contratto di via San Francesco, stoppa ai lavori e poi i consigli di una 95enne per affrontare la canicola estiva, l'incontro con Seri e Ricci al comune di Fano per una giunta congiunta, diciamo così, e Capitaneria, blizzo notturno, tolti gli ombrelloni abusivi. Partiamo da questa notizia, quella non degli ombrelloni abusivi, ma della giunta congiunta, delle due giunte nella sala della Concordia, in riunione congiunta tra assessori e sindaci, il sogno è quello di far arretrare la ferrovia. Sono stati illustrati diversi punti di questo accordo, di questo asse chiamato così Fano-Pesaro. Naturalmente infrastrutture e eccellenze territoriali sono state le notizie principali riportate dai giornali, ma c'è tanto, è anche da noi, ma c'è tanto in questo accordo. Uno di questi è il sogno di far arretrare la ferrovia incontro delle due giunte, i progetti sul tavolo cruciale, la strada di collegamento fra Belgato e Muraglia, perché appunto la sanità è stato un altro dei temi trattati, e le infrastrutture in maniera principale, quindi le strade, e queste ipotesi che con il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Bari, Ferrovia dello Stato, stia pensando a una nuova linea e quindi di liberare la costa dalla ferrovia, quindi il paesaggio e anche la viabilità verrebbe stravolta, e poi il collegamento tra Fano e Pesaro per l'ospedale di Muraglia, Rossini, Carnevale, insomma un accordo molto strutturato per programmare una città sempre più in area metropolitana. Poi è stata presentata ieri anche l'iniziativa su Sassonia, San Bartolomeo che affonda le radici nel 1457, la fiera più antica si rinnova, durerà un giorno di meno, ma con più proposte da vivere. E vedete qui l'immarcescibile Filippo Tranquilli, onnipresente in una delle sue performance, che sarà presente anche alla fiera di San Bartolomeo, Filippo Tranquilli che è presente anche nel cantone dei Maghi e dei Maghetti, vestito da mago, andatelo a vedere perché è veramente spettacolare nella sua mise. Ma si parla appunto dei nodi dell'estate, sui danni del foglia, appunto perché la goletta verde ha bocciato il foglia, la foce è fortemente inquinata, mancano i divieti, migliorano invece Tavollo e Arzilla. Bene, atteso il depuratore, potenziamento dell'impianto di Borghiera, è alla conferenza dei servizi e c'è il problema delle fogne. E poi sempre da Pesaro, l'altro lancio in prima pagina, è questo il comune rescinde il contratto con la ditta Spada per le lungaggine del cantiere in via San Francesco. Continuiamo, l'altro lancio in prima pagina, era quella dei consigli della 95enne su come affrontare la canicola. Eccoli qua, questa è la saggezza popolare, non accendo né i fornelli né la tv, il medico lo vedo di rado. A 95, ma con l'AFA vinco io, frutta, verdura e tapparelle chiuse. E in questa intervista la signora Maria Luisa, insomma, sciorina consiglia a piene mani su come affrontare appunto questi giorni di grande AFA, ma qui ognuno sta per conto proprio e se non mi vedono nessuno bussa nel palazzo di Via Giolitti. Purtroppo anche l'isolamento delle persone anziane in queste calde giornate di ferie è un altro dei problemi. Però vedete, alle volte la saggezza popolare ci prende consigli giusti e mirati. C'è anche cronaca nelle pagine del resto del Carlino, colpo grosso al bar delle Autocorriere, 7 mila euro portati via tra sigarette e contanti, l'allarme non ha suonato. Andiamo a Urbino nella pagina del resto del Carlino, ancora sgarbi nei titoli, e qui il cielo degli Aquiloni, questa volta su qualcosa di positivo, l'assessore fa un accordo con i contradaioli per la festa di quest'anno. Vedete, insomma, avete visto sorrisi e volti distesi, meno male. Corriere Adriatico, cambiamo testata, andiamo nell'apertura, siglato il patto appunto Fano-Pesero per cultura e infrastruttura, grande alleanza per l'arretramento della ferrovia e la variante alla statale 16. E poi vi faccio vedere la fotonotizia che riguarda però un altro argomento, a differenza del Carlino, qui si parla di altre infrastrutture, insomma quelle che purtroppo sono venute giù, sisma, indennizi, follia, i lavoratori autonomi, basta solo 24 ore di inattività, poi finanziate le prime opere pubbliche. Di che cosa si tratta? C'è qui in questo articolo, se lo ritrovo, perché oggi il computer me l'ha impaginata un po' come voleva lui, eccolo qua, fermi per un giorno o per mesi, il danno vale sempre 5.000 euro, il minimo indennizzo in lavoratori autonomi, caccia a chi lo ha ottenuto senza diritto. E questa è l'altra pagina purtroppo di queste brutte pagine di cronaca, il sisma e tutto quello che avviene, però il dopo forse è anche peggio del prima, questo è, nell'articolo troverete tutti i particolari di questa indagine. Poi ancora il terremoto, vivono nelle case lesionate, appunto, è il continuo dell'articolo e prendono soldi per l'affitto. Dopo le denunce a Camerino scattano i controlli anche nell'Ascolano. Andiamo a vedere la pagina di Fano, del Corriere Adriatico, Sassonia Pulsa, di vita d'agosto, con spettacoli, eventi e concorsi, tra le altre iniziative il Comitato Lancia, Colossia Festival e aspettando naturalmente la fiera di San Bartolomeo. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, però per quanto riguarda Fano, il blocco operatorio che è stato operato da poco, è stato aperto da poco, è stato aperto da poco, però scattano un po' di polemiche perché dopo dieci anni di abbandono, blocco operatorio inaugurato, la consigliera di Fano, città ideale, rileva le incongruenze della gestione del Santa Croce. Lucia Tarsi della lista fondata da Danna punta il dito su questa inaugurazione con alcuni retroscena, meglio tardi che mai, però in questo articolo c'è il suo pensiero. Bene, il Cecchi a Fano, la vicenda annosa del Cecchi a Fano, che prima doveva arrivare, poi non doveva arrivare, la sede, non la sede, tutto ok, tutto a posto, poi invece dall'ufficio scolastico della regione è arrivata la bocciatura. Legge colposa perché Cecchi è colpa della legge per i due ambiti scolastici, bienio a Fano bocciato, i 5 Stelle rilanciano con un istituto industriale. Si parla anche di aeroporto, responsabilità della giunta precedente per la situazione attuale dell'aeroporto. Andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico, si parla di politica, c'è politica nelle pagine di Urbino del Corriere, il PD vuole la città, giardino, idee e spazi adatti ci sono. Convegno, qui siamo dalla foto mi sembra alla data, con l'architetto Mezzolani sulle potenzialità della città ducale. Poi a Urbania c'è una festa per quattro giorni, e quindi andate anche a Urbania per vedere che cosa accade. Vi do questa notizia positiva, ieri ve l'abbiamo data leggendo le pagine dei giornali, di quell'assalto del pitbull al vicino di casa, ora il braccio si può salvare, parlano i sanitari dell'ospedale di Pesaro, l'uomo migliora, i medici sono fiduciosi per la mano e l'avambraccio. Dalla Val Cesano, andiamo nelle pagine che riguardano l'interno della nostra provincia, We Walle Vita, progetto contro le dipendenze, grande festa, presentato alla fine dei servizi extrascolastici, il campo incentrato sulle esperienze. Vedete qui un gruppo di partecipanti alla festa, e poi Riccardo Borini, il responsabile del dipartimento della TS6. Ancora nelle pagine però che riguardano Senigallia, vi faccio vedere l'ultima, pronto soccorso, notte in trincea, botte, incidenti, abusi alcolici, ospedale sotto stress per gli accessi della Movida, un bagnino, dicono molti disagi, ma bravo il personale. Abbiamo trattato 15 persone, tra cui due gravi comi etilici. Parla Marco Mazzanti, il presidente della Croce Rossa di Senigallia. Bene, questa era l'ultima notizia che vi evidenziavo nelle pagine del Corriere Adriatico. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio ai giornali torna domani mattina puntualmente alle 7.30 e questa sera c'è Occhio alla notizia, il nostro telegiornale. Le segnalazioni vostre per noi sono importantissime. Avete a disposizione un numero di telefono che avete visto in sovraimpressione. usatelo, mandateci foto o qualche segnalazione che voi ritenete utile che ci arrivi. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.